oggi è il 2 giugno 2022 siamo sul porto vecchio di sanremo di fronte a santa tecla che vediamo qua di fronte barbara e lorenza era il porto vecchio ha sempre il suo fascino le barche sono di piccole dimensioni una buona parte sono barche da pesca siamo a fianco alla pista ciclabile del ponente ligure raggiungibile in 10 chilometri circa di bicicletta dall'albergo lucciola di santo stefano al mare che vi propone queste immagini qui è la parte più autentica del mare del comune di sanremo per informazioni www.albergolucciola.com oppure 0184 48 42 36